buon pomeriggio a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video parleremo del trentasesimo episodio di clash of clans 2 che cosa andremo a fare qui beh non lo so nemmeno io comunque vi auguro una buona visione lo stesso va bene registra ok eccoci qui ragazzi nel trentasesimo episodio di clash of clans 2 saliamo di livello 64 va bene accontentato comunque sia addestriamo le truppe e andiamo ad attaccare mi chiedo se questi sono archi x no non posso andare oltre devo potenziarmi raga però guardate qua cosa è successo doppio cannone è arrivato è stato il costruttore a venire qua ma comunque sia torniamo alle vecchie partite va bene qua ragazzi beh qua tanto è semplice ma è stato semplice ma di più faremo ora nell'altro villaggio sì sì andiamo qua vediamo vediamo scusate ragazzi mi aveva chiamato mia madre ok ok va bene va bene buona va bene avanti dai forza questa battaglia è vinda anche se ci vorrà un bel po' del previsto un bel po' del previsto Mi sa che non ce la fa in tempo Acceleriamo i tempi Purtroppo non ci arriva in tempo Oh, non era il 100% Però tutto a posto Beh, la vittoria l'abbiamo ricevuta lo stesso Oh, ricompensa, grazie Meglio da questa parte Meglio da questa parte Dobbiamo cercare di entrare nella base E ci siamo riusciti Meglio da questa parte Niente Speriamo di aver vinto Sì, abbiamo vinto Incredibile Continuiamo Fin quando è tutto sicuro e a posto Farò uscire i pecca Dai, forza Un pochino più basso Altrimenti non si sente niente Non si capisce niente Farza Beh, purtroppo qua ha vinto lui Mi dispiace Oppure abbiamo vinto di nuovo Questo non lo so Qua potremmo portare tutto a livello massimo Beh, non lo so Comunque io non vorrei sprecare Eh, vittoria A posto Beh, intanto Certi cannoni Devono avere Un regolarizzato Perché alcuni Hanno un livello Troppo basso E non mi piace Questa cosa Capito? Quindi devono essere Perfezionati Questi cannoni Per difendersi Capito? Cioè io Allora Le prime partite Sono andate a buon fine E bene Ma adesso E' questo Che mi coglie Di sorpresa Dai Distruggete il doppio cannone Per favore Draghetti Bravi Niente I pecca Sono riusciti a scappare Bravo Ma vediamo se abbiamo vinto Però Se non ho fatto due stelle Forse no Non lo so Sì Abbiamo vinto Adesso attacchiamo Da questa parte Dobbiamo attaccare Nelle zone Diciamo così Va bene Grazie a tutti Grazie a tutti Bene Bene Dai Niente Vediamo se abbiamo vinto Niente Niente Perché ha fatto due stelle Ma a quest'ora la vittoria era nostra Riproviamo Mi questo è ultra potenziato Ha degli spaccamuro Incredibili Diamogli una mano Oh c'è un ultra cannone Ultra doppio cannone Oserei dire Guardatelo E' troppo potente Dai a meno Facciamo fuori il doppio cannone Niente Abbiamo perso anche questa Questa qui è vinta Ragazzi Acceleriamo i tempi Col martello elettrico Dai Benissimo Benissimo Facciamo l'ultima partita E con godiamo Da dove iniziamo Da qua Vabbè Da qua E' complicato Scegliere da dove E' Grazie a tutti. Gli spacca muro sono i più duri. Non gli spacca muro, gli spacca tutto. Così si chiamano. Sono un'arma devastante. Dai, pecca, sei l'unica speranza. Fai un due stelle, perfetto, bravo. Vediamo se abbiamo vinto. Ti prego, niente, lui ha vinto. Ma logico, che ti aspettavi, era forte. Oh, finalmente abbiamo vinto. Bene. A quanto pare, diciamo che possiamo concludere il video qui, va bene? Bene, ragazzi. Spero tanto che questo video viene di Clash of Clans 2. Saliamo di livello 64. Vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale, mi raccomando. E toto un bel like. E noi ci vedremo in un prossimo video. Con il 31esimo episodio di Astronomy Universe. Ok? Noi ci vedremo alla prossima. Ciao!